Amici di Resbellica, oggi vi parliamo di un cavaliere gallico, per la precisione di un cavaliere senone della seconda metà del IV secolo a.C. Io e Siwa vi mostreremo qualcosa sulle tecniche di combattimento e l'armamento, mentre Gio Alcanestrelli, che conoscerete per il suo canale YouTube Europa Antiqua, storico e archeologo specializzato nella storia militare dell'evo antico, tratterà la figura storica del cavaliere gallico. Durante il IV secolo a.C. l'utilizzo del carro da guerra comincia progressivamente e lentamente a rarefarsi presso i celti del continente. Il carro da guerra continuerà a essere utilizzato in ambito bellico durante il III e anche durante i primi anni del II secolo a.C., ma il suo uso diventerà sempre più rappresentativo e sempre meno pratico. Contemporaneamente, con il lento tramonto del carro da guerra, abbiamo l'assurgere di reparti di veri e propri cavalieri gallici. Per la nostra ricostruzione di un cavaliere senone della seconda metà del IV secolo a.C. abbiamo adottato un elmo sulla tipologia dell'elmo di filottrano, così denominato dalla località di rinvenimento nelle Marche, che è di una tipologia particolare sia per il fatto di essere realizzato in bronzo, decorato e incisione a sbalzo, sia per un vistoso cimiero a tridente, non così raro nell'Italia del Sud, ma comunque in questo caso decisamente molto vistoso. In realtà questa è una riproduzione dell'elmo di San Ginesio, sempre da una località nelle Marche, ma molto simile alla tipologia di cui fa parte anche l'elmo di filottrano e si tratta infatti di una serie di elmi gallici di tipologia gallo-italico, molto affine all'elmo tipo Montefortino, ma realizzati in bronzo, cosa abbastanza rara per gli elmi gallici che normalmente sono realizzati in ferro e tutti caratterizzati da un'elaborata decorazione sia a incisione sul coppo dell'elmo, sia a sbalzo nelle paragnatidi, sempre bronze e decorate da borchie in ferro. I cimieri a tridente sono abbastanza ben documentati tra i popoli italici dell'Italia meridionale e molto probabilmente questo cimiero si sarà ispirato ai modelli italici, naturalmente enfatizzandolo secondo il gusto celtico e diciamo pure un po' esagerando, infatti se normalmente sono cimieri a tre o quattro rebbi al massimo, qui addirittura abbiamo due livelli, è praticamente un doppio tridente per un cimiero decisamente vistoso da ostentare in battaglia. Per l'armatura invece abbiamo optato per un'armatura in cuoio e feltro senza nessun accessorio metallico ricostruito sulla base di alcune sculture quali quelle da Glauberg e dal bronzetto di Gutenberg nel Liechtenstein che ci mostrano appunto delle armature con dei motivi decorativi a rombi e molto probabilmente sono del tipo a corsaletto con spallacci simili a quelle ellenistiche dello stesso periodo. In modo simile alle armature ellenistiche questa armatura è decorata sugli spallacci al centro con dei disegni che tuttavia sono di tipologia tipicamente celtica. Per gli spallacci abbiamo scelto due volti che si richiamano al culto delle teste mozzate come testimoniato ad esempio in alcuni santuari gallici in Francia e il disegno è tratto dalle decorazioni del fodero della spada di Santa Paolina di Filottrano sempre nelle Marche sempre della seconda metà del IV secolo che riporta appunto come decorazione motivo molto simile. Al centro del petto invece abbiamo proposto come decorazione una triscelle presa da diverse decorazioni contemporanee da elmi e da foderi di spada gallici. Abbiamo un'attestazione molto interessante relativa alle tecniche di ingaggio dei cavalieri gallici di IV secolo a.C. in Senofonte che nelle elleniche parla di alcuni reparti di cavalieri gallici inviati dal tiranno di Siracusa in supporto agli spartani durante la loro guerra contro i tebani. I cavalieri gallici inviati dal tiranno di Siracusa per combattere al fianco degli spartani vengono descritti da Senofonte scagliare i loro giavellotti da cavallo ma evitare il contatto stretto con gli avversari, ritirarsi, scendere da cavallo, riposarsi, prendere nuovi giavellotti e proprio quando gli opliti tebani sono in dirittura d'arrivo per ingaggiarli in corpo a corpo eccoli risalire a cavallo, scagliare nuovamente giavellotti e allontanarsi. Quindi un utilizzo principalmente di schermaglia. Va detto che questo approccio allo scontro potrebbe per certi versi essere frutto di una coine militare che aveva beneficiato anche dei rapporti con il mondo greco. Per ricostruire l'armamento di un cavaliere gallico di questo periodo purtroppo non disponiamo di molte fonti dirette, infatti non abbiamo raffigurazioni del periodo che ci mostrino un cavaliere e quindi dobbiamo ricostruirlo immaginando che facendo parte dell'elite guerriera del suo periodo avesse il miglior armamento disponibile per quel periodo. Per questo abbiamo utilizzato quest'elmo decisamente prestigioso, abbiamo fatto indossare al cavaliere un'armatura e la spada ovviamente a pannaggio dei guerrieri più prestigiosi. Uno dei punti più oscuri però è l'utilizzo dello scudo. Abbiamo soltanto raffigurazioni decisamente successive di secoli dopo di cavalieri gallici con lo scudo e sono raffigurati su monete, quindi sono raffigurazioni anche decisamente poco chiare. Quindi noi abbiamo fatto delle ipotesi su come potesse essere utilizzato lo scudo. La prima ipotesi che abbiamo è questa, l'utilizzo di uno scudo ovale classico molto simile a quello utilizzato dalla fanteria con un'impugnatura orizzontale che quindi presuppone l'utilizzo dello scudo in questo modo nel combattimento. Questo però implica che per utilizzare anche i giavellotti e le redini il cavaliere fosse obbligato a tenere lo scudo in questa posizione che oltre a non consentire una protezione del cavaliere stesso, se non veramente minima, in quanto la protezione, la posizione corretta dello scudo in questa posizione, ma in questa posizione non potrebbe impugnare i giavellotti e soprattutto non può utilizzare le redini perché in questa posizione della mano le redini sono pressoché inutilizzabili. Questa ipotesi è sicuramente compatibile con un utilizzo della cavalleria molto simile a quello del precedente uso dei carri da guerra, cioè lo scudo non veniva utilizzato per proteggersi durante l'attacco a cavallo, veniva semplicemente portato con sé insieme ai giavellotti che venivano lanciati contro il nemico e in seguito il cavaliere sarebbe sceso a combattere come un fante pesante, un fante corazzato, laddove la battaglia richiedesse maggiormente l'intervento dell'elite guerriera dell'esercito gallico. Quindi una volta scaricate le armi da getto si scendeva e si combatteva con la spada. Questa è una prima ipotesi ed è probabilmente compatibile con le raffigurazioni sulle monete galliche di primo secolo a.C. che in alcuni casi raffigurano appunto un cavaliere che porta uno scudo ovale in posizione orizzontale. Un'altra delle possibilità è l'utilizzo di uno scudo sempre ovale ma con l'impugnatura verticale ricostruito sulla base di uno scudo da Doncaster nel Regno Unito di cui si ipotizza la ricostruzione effettivamente con una maniglia verticale e si ipotizza l'utilizzo proprio per un cavaliere. Questo tipo di impugnatura ha diversi vantaggi. Permette l'utilizzo insieme alle redini e insieme a uno o più giavellotti impugnati contemporaneamente. Potete vedere in questo caso la posizione è quella abituale in cui si utilizzano le redini. Nella stessa direzione posso impugnare un giavellotto o più giavellotti se fossero un po' più sottili. Posso utilizzare le redini in modo abbastanza simile a qualunque altra situazione in cui si utilizzano le redini di appoggio. Questo è uno scudo, è la riproduzione di uno degli scudi da Yostring e pur avendo l'impugnatura di tipo orizzontale per le sue ridotte dimensioni si rivela uno scudo ottimamente adatto all'utilizzo a cavallo perché pur non effendo una gran protezione però permette l'utilizzo delle redini in modo molto semplice, molto raffinato senza dare nessun tipo di inciampo. Permette allo stesso tempo di portare insieme i giavellotti senza interferire con la gestione della cavalcatura ed è compatibile sempre con una tecnica di combattimento di un guerriero aristocratico, un guerriero dell'elite che molto probabilmente non combatteva nei ranghi serrati insieme al resto della fanteria ma tendeva ad intervenire proprio laddove la battaglia richiedesse il maggior sfoggio di ardimento e di valore guerriero, si trattava di guerrieri professionisti e quindi prediligesse un tipo di combattimento molto dinamico che utilizzava anche lo scudo in maniera dinamica e quindi non come una protezione abbastanza fissa, una tavola diciamo che copriva il proprio corpo ma semplicemente come un attrezzo che andava a parare i colpi e poteva essere utilizzato anche per colpire l'avversario, insomma quindi un combattimento molto agile con uno scudo leggero e maneggevole. I contemporanei eserciti mediterranei molto spesso utilizzavano uno scudo completamente diverso, utilizzavano uno scudo rotondo con un buone a spine in legno che in questo caso si trovava in posizione orizzontale per andare a coprire il braccio che all'interno si trovava posizionato in modo orizzontale appunto utilizzando un tipo di impugnatura appunto a imbracciatura e impugnatura come gli scudi oplittici più antichi. È uno scudo molto utilizzato dalla cavalleria, con questa tipologia di impugnatura, molto utilizzato dalla cavalleria ellenistica più tarda, dalle cavallerie romane, dalle cavallerie italiche etrusche, del quale però non abbiamo alcun indizio presso le popolazioni galliche contemporanee anche se non è ovviamente possibile escluderne completamente un utilizzo soprattutto per i popoli gallici più italicizzati o etruschizzati come i boi, i senoni, quelli insomma che avevano avuto più contatti col mondo mediterraneo proprio grazie alla loro permanenza in Italia. Per quello che possiamo arguire dall'equipaggiamento e dall'estrazione sociale del cavaliere gallico di IV secolo a.C., normalmente egli appunto schermaglia con il nemico per poi però scendere da cavallo e combattere a piedi, poiché si tratta di un nobile che quindi doveva dirigere e condurre in battaglia il grosso dell'esercito. La spada del guerriero gallico di IV secolo a.C. è un discrimine di questo, infatti si attesta intorno ai 60 centimetri di lama, non è quindi un'arma pensata per il combattimento a cavallo ma per il combattimento a piedi. A completare l'armamento offensivo del cavaliere abbiamo la spada che in questo caso è ancora una spada di media lunghezza attorno ai 60 centimetri di lama trattenuta da un cinto sospensorio che è ancora completamente in cuoio non avendo ancora sviluppato il cinto sospensorio a catena metallica che appare proprio alla fine del IV secolo negli ultimissimi anni. Per questa ricostruzione non abbiamo utilizzato nessun supporto per la seduta né coperte né imbottiture basandoci sul racconto di Giulio Cesare che nel De Bello gallico ci racconta che ancora nel I secolo a.C. i germani ritenessero dai femminati l'utilizzo di qualunque tipo di imbottitura per montare a cavallo e quindi questo ci fa supporre che la monta a pelo fosse ancora ben diffusa nei secoli precedenti anche se all'epoca di Giulio Cesare i galli probabilmente avevano già adottato la sella a quattro corni. Abbiamo utilizzato un semplicissimo filetto snodato ad anelli in tutto simile a quelli documentati anche nell'epoca celtica perché tutto sommato questo tipo di imboccatura compare agli inizi dell'equitazione e perdura per tutta la durata dell'equitazione fino ai giorni nostri. È un tipo molto semplice e utilizzato molto anche nelle epoche storiche. Ringraziamo anche stavolta Siua per la collaborazione. Se avete trovato questo video interessante per favore mettete un like e se volete iscrivetevi al nostro canale YouTube. Per qualche approfondimento potete visitare anche il canale YouTube di Europa Antiqua e inoltre trovate alcuni link nella descrizione del video. Alla prossima!